a dieci anni dal lancio della prima smart elettrica ecco la nuova generazione della smart for two electric drive dal 2020 infatti la casa tedesca ha detto addio ai motori a benzina per lasciare il posto ai propulsori a corrente sul piano estetico la differenza con le altre smart è impercettibile solo logo sulla fiancata i colori infatti sono specifici è spinta da un motore elettrico da 60 kilowatt che sviluppa 82 cavalli con una batteria che ha una capacità di 17,6 kilowattora ed è collocata tra i due assi per tenere basso il baricentro la capacità non cambia rispetto a quella della precedente smart elettrica diversi invece i tempi di ricarica 6 ore per l'80 per cento da una presa domestica contro le precedenti 7 e 3 ore da wallbox da 20 ampere passi avanti la nuova smart for two electric drive li ha fatti anche sul piano dell'autonomia che passa dai 145 chilometri dichiarati della vecchia versione ai 160 dell'attuale un incremento più che sufficiente per la mobilità urbana giornaliera a bordo non ci si accorge subito di essere sulla versione elettrica della city car tedesca l'abitacolo è quello consueto ampio e luminoso a far capire che ci si trova sulla electric drive c'è uno strumento supplementare a sinistra sulla plancia e indica la potenza e il livello di carica della batteria davvero agile in città la smart for two electric drive si fa apprezzare soprattutto per il notevole spunto in partenza che consente di scattare con vivacità al semaforo senza rumore e con un buon allungo il comfort è ottimo e lo sterzo è leggero e preciso sicura anche la frenata oltre al programma di marcia normale è possibile selezionare la modalità eco che consente uno stile di guida più efficiente questa funzione prevede la limitazione della velocità massima una diversa risposta del pedale dell'acceleratore e il massimo livello di recupero dell'energia cinetica dell'auto in frenata con la conversione in energia elettrica la smart for two e q è piacevole da guidare e si distingue per la fluidità nell'andatura affidando il recupero dell'energia all'azione di un freno motore intelligente le dimensioni le permettono di muoversi agilmente in città e trovare parcheggio con lei è un gioco da ragazza vieni a trovarci per scoprire gli incentivi della tua regione applicabili al prezzo ti aspettiamo anche sabato e domenica